Per il resto parliamo di network, parliamo quindi di relazioni che si hanno tra professionisti che magari molti vedono come competitor tra di loro ma che all'interno del web diventano dei partner, degli amici, nel vero senso della parola, non solo in quello di friends, di facebook. Siamo tutti colleghi e in realtà lavoriamo molto sinergicamente, io confido e credo nel fatto che le persone nel web si diano una mano, anche perché le competenze sono così tante e c'è spazio veramente per tutti, la richiesta è così ampia, che veramente trovare due sovrapposizioni è difficile. E infatti tu gestisci come community manager due gruppi in LinkedIn che sono molto apprezzati. Sì, sono i due più importanti gruppi LinkedIn di social media, uno si chiama social media marketing italiano e l'altro social media marketing Italia, tra tutte e due hanno più o meno 6.500 persone che sono iscritte. Cerco di gestire la community lasciando la massima libertà a tutti, stimolando le persone nella chiacchierata e facendo in modo che nessuno prenda sopravvento sugli altri. Sono persone eccezionali, sono persone veramente che ne sanno molto più di me e ogni giorno imparo anche solo leggendo i commenti che vengono fatti. Poi cerco di non dare nulla per scontato, una delle cose che quando mi fanno alcune domande su ma posso scrivere, la mia risposta è siamo tutti neofiti sul web, chi più chi meno e ognuno ha la sua idea di come sono fatti i social, quindi scrivi che non sbagli. Certo, anche perché il doubt des è alla base del social networking. Assolutamente, credo anche molto in quello che viene chiamato social crowding, se possiamo dire social sourcing, crowding o cose di questo tipo, per cui una domanda di una persona insieme a domande di altri contribuiscono a definire meglio un problema e a dare una risposta come anche una risposta di una persona insieme ad altre, ha una saggezza maggiore perché sono fenomeni così complessi che ognuno di noi li vede da una sfaccettatura diversa che per dipingere questo quadro c'è bisogno di tanti occhi e tante teste. Certo, certo. Ci sono gruppi aperti, quindi chiunque può richiedere di essere iscritto, quindi ripetiamo i due gruppi? Social Media Marketing Italia e Social Media Marketing Italiano. Ok, l'unico prerequisito è essere dentro LinkedIn. LinkedIn, sì, assolutamente. Perfetto. Bene Andrea, noi ti ringraziamo moltissimo e quando hai qualche notizia su cosa sul mondo del web marketing ovviamente devi venire a dircelo. Grazie Giorgio, assolutamente. Grazie. Ciao.